Benvenuti in questa prima puntata di una serie che riguarderà il famosissimo mostro di Loch Ness. In questa e nelle prossime puntate vi illustrerò alcune curiosità su questa misteriosa creatura. Nessi, il soprannome dato al mostro derivante dal nome del lago, significa letteralmente puro. Il 21 aprile del 2015, in occasione dell'anniversario, Google ha dedicato al mostro il Doodle, cioè una versione speciale del logo del motore di ricerca. Un uomo ha affermato di aver trovato il mostro su Google Earth nel 2009. Un'immagine è anche stata catturata dalle mappe di Apple, dove vi è raffigurata un'ombra sulla superficie del lago. La vita di San Colombano è il titolo del primo libro di Nessi, scritto rispettivamente nell'VIII secolo. Questo libro si può dire che sia un annuncio sull'esistenza di un mostro nascosto nel lago. Il lago è stato nominato il covo di Nessi. È stato proclamato, grazie ad un sondaggio, lo scozzese più famoso nel 2006. Grazie a tutti.